Una porno star italiana residente in Lombardia risultata essere anche vasure totale è stata denunciata dalle fiamme gialle di Camerino per induzione e favoreggiamento della prostituzione. L'indagine, iniziata un anno fa, è scattata dalla denuncia presentata da una cittadina residente in un comune dell'Alto Maceratese, la quale si era vista pubblicare su un social network immagini che la ritraevano in atteggiamenti art. Dalle indagini si è scoperto che la responsabile era una porno star che gestiva un sito internet specializzato in filmati hard che dava anche la possibilità ai clienti di intrattenersi con le ragazze, ovviamente previo pagamento del corrispettivo. Successivamente i finanzieri hanno accertato che la porno star per i rapporti con la sua clientela reclutava donne di ogni età mediante annunci pubblicati sulla rete internet. Le prestazioni rese erano esclusivamente di tipo erotico, i clienti potevano richiedere l'interazione con la potenziale escort collegandosi in webcam pagando con moneta elettronica. È stato inoltre scoperto dalle fiamme gialle che la stessa porno star aveva messo in cantiere la produzione di film hard con attori non professionisti, i quali si rendevano protagonisti dietro compenso. Le scene venivano poi immesse in rete a beneficio di coloro i quali sottoscrivevano abbonamenti e si registravano sul sito. La donna è stata denunciata per induzione e favoreggiamento della prostituzione, la porno star dovrà rispondere anche di evasione fiscale. Un fatto che purtroppo dimostra il cambiamento in atto dei luoghi e delle forme di prostituzione, dal marciapiede al web, dal protettore in carne e ossa al protettore online.